Dopo la vittoria esterna a Gallipoli, la Fortis Altamura capitola tra le mura amiche. Anche questa volta l'avversario è Salentino, lugento, capace di approfittare di ogni occasione e portare a casa tre punti pesantissimi. Nel primo tempo il vantaggio degli ospiti arriva dopo soli tre minuti con la conclusione ravvicinata di Regner, palla che passa sotto Giannuzzi. La Fortis, dopo diversi tentativi, manca il pareggio dagli 11 metri con il rigore parato dall'estremo Salentino. All'intervallo i padroni di casa sono costretti ad inseguire, nella ripresa passa un solo minuto e l'Altamura pareggia i conti grazie alla conclusione di Portoghese che fa 1-1. Al 55esimo beffa clamorosa per la Fortis, liscio difensivo che manda verso la porta a pardo, conclusione quasi a pallonetto letale. E 1-2, lugento e nuovamente in vantaggio per i padroni di casa è il momento di spingere correndo il rischio delle ripartenze. La Fortis crea ma non conclude e al 94esimo il contropiede dei Salentini porta la terza rete firmata da Ponzo. Lugento in testa alla classifica per l'Altamura un'occasione sciupata per risalire la china.